Dottoressa, c'è un grosso problema urgente che è quello dei pendolari, che cosa state facendo? Guardi, intanto siamo per varare il nuovo orario, dal 15 di dicembre introdurremo alcune novità, peraltro molto richieste dai pendolari settimanali oltre che giornalieri. In particolare verranno attivate due nuove corse domenicali, sono treni che partono al mattino da Roma Termini, intorno alle 10.00 e 14.00 e poi arriveranno su Perugia. Vanno a coprire una fascia priva di servizi di circa 5 ore, con un ritorno intorno alle 14.02, sempre per Roma Termini, quindi Perugia-Roma Termini. Avete avuto modo di incontrarli? I pendolari, certamente, noi abbiamo contatti continui con i pendolari, in particolare con il coordinamento dei pendolari umbri e c'è un riscontro sulle singole situazioni in maniera veramente simultanea. C'è una grande collaborazione nel rispetto dei ruoli e c'è una grande apertura a venire incontro ad ascoltare i temi che ovviamente tutti i giorni ci propongono. E vi avete informato evidentemente di questa novità che ha tutti gli effetti? In realtà questa novità è stata anche richiesta, era da tempo che veniva richiesto un segnale per la domenica, i festivi in generale. E quest'anno, grazie ad una rimodulazione, piccola rimodulazione che è stata fatta, è stato possibile soddisfare. Non solo, proprio per soddisfare alcune altre esigenze che venivano dal mondo orvietano, quindi parliamo Orte-Orvieto, nel pomeriggio, quindi nei giorni feriali, nel pomeriggio sarà istituita una coppia di servizi da Chiusi-Orvieto-Orte con ripartenza, in corrispondenza dell'arrivo ad Orte del treno 24-90, alla volta di Orvieto-Chiusi.